Grazie per la visione! E' molto lungo Inizia a fare un video perché non so se mette un commento che può finire no dei video dei video però no così non vale non vale bravo bravo Fino 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 Sì, come on. Sì, sì, sì. Come on. Come on, come on. Come on. Come on. Come on.